un piccolo ragionamento magari su gli argomenti che abbiamo trattato e quali percorsi professionali possono aprire. Vorrei fare questo ragionamento un po' insieme perché non ricordo tutto quello che abbiamo detto e magari qualcuno di voi ieri è arrivato un attimo dopo le presentazioni quindi non ricordo bene i campi professionali di tutti. A me ne sono venuti in mente alcuni quindi uno degli ambiti professionali è quello della scuola quindi i laboratori per le scuole e la formazione di insegnanti o di personale per la scuola questo è un settore. Un altro settore è l'organizzazione di eventi quindi non lo so qua ci sono aziende che producono cibo ma non solo che magari producono utensili oppure negozi marchi eccetera che vogliono promuoversi eccetera potete proporre l'organizzazione in un laboratorio così come avete visto ieri come momento di aggregazione di animazione per i bambini quindi offrite un'attività di valore educativo però per un evento di intrattenimento. questo è un ambito che può dare lavoro considerato che magari non lontano da qua ci sono zone dove d'estate ci sono un sacco di bambini e quindi veniamo al terzo punto quello del turismo quindi potete proporre attività e incontri educazione alimentare incontri sul cibo di conoscenza del cibo locale eccetera in una chiave come dicono in mondo anglosassone kids friendly no quindi sensibili all'esigenza ai tempi del bambino ok quindi un posto che organizza cose per adulti voi siete in grado di tradurre la comunicazione in una chiave rispettosa del bambino sempre nel turismo esperienze di scoperta del territorio visite alle masserie cose così con il piccolo laboratorio piccola attività interessante mi è venuto in mente pensando a te soprattutto il sostegno a famiglie o posti con delle difficoltà oggettive per tutto quello che abbiamo detto su su come le difficoltà a volte familiari si traducono in determinati comportamenti a tavola e invece come il bambino grazie al suo comportamento col cibo al suo comportamento a tavola ci regala informazioni preziosissime sugli equilibri familiari quindi aiutare le famiglie a vincere quell'idea che il bambino fa capricciatavola il bambino ha problemi eccetera ma il bambino ci sta parlando ok a questo proposito un grande stimolo per me a proposito appunto di libri di riferimenti è venuto da un autore danese che si chiama Jesper Juhl scritto con la J Jesper e poi Juhl J-U-U-L che ha scritto due libri molto belli il primo è un librone che magari nessuno legge tutto però si legge qua e là che si chiama Il bambino è competente il secondo è un libro bellissimo che si chiama, un libretto eh che è proprio lettura agilissima che si chiama Ragazzi a tavola e dove lui riprende dei temi del libro precedente ma nel frattempo è diventato papà e ha cominciato a cucinare con i figli quindi dice che certe robe che aveva detto poi non erano davvero così racconta la sua esperienza di papà che cucina per i figli e con i figli in un modo bellissimo sentendo che sta facendo qualcosa veramente di prezioso per i suoi figli ecco di questo libro Ragazzi a tavola consiglio vivamente la lettura Potessi vi obbligherei a leggerlo è un libretto così perché è proprio bello è proprio chiaro è proprio quelle robe che uno è contento di aver letto quei libri che uno arriva all'ultima pagina in un attimo ed è un libro che scardina tanti pregiudizi diffusi l'editoria perché quella è la mia esperienza vero è e ve lo dico chiaro che nell'editoria non si guadagna il becco di un quattrino quindi se qualcuno ha l'ambizione di guadagnare proprio che non sia l'editoria però detto ciò il lavoro editoriale è utilissimo per comunicare quello che voi fate quindi io pubblico libri non perché guadagno dai libri perché dai libri veramente fatti i conti del tempo che ci ho messo non guadagno un tubo dopo streaming spento vi dico quanto guadagno dai libri vi viene da ridere però è utilissimo primo perché arriva al genitore che vuole fare le cose eccetera eccetera e poi perché è un modo di pensare di sintetizzare le vostre esperienze e di condividerle perché sempre di più dobbiamo essere anche poco gelosi di quello che scopriamo di quello che sappiamo e scambiarci e condividere perché davvero questo è un campo in cui si sa poco in cui ogni esperienza significativa conta per mettere insieme le cose e poi è una cosa che resta quindi riuscire a pubblicare a scrivere eccetera è molto bello e magari pensare a uno sbocco anche editoriale è uno stimolo a fare un lavoro importantissimo di cui forse avete già parlato che è quello della documentazione cioè tutto quello che voi fate scrivete prendete appunti fermatevi cinque minuti a scrivervi quello che è successo come avete fatto una cosa perché guardate che poi si dimentica che attrezzatura avete usato cosa è successo fate foto raccogliete perché la documentazione è preziosissima nel tempo con l'andare del tempo per capire cosa state facendo per migliorarvi sempre e per scambiare a questo proposito ve lo dirò anche alla fine però se posso darvi un consiglio proprio di quelli da vecchia zia imparate bene l'inglese ma non un po' imparatelo proprio bene perché il linguaggio anche in campo educativo l'avete visto dai TED Talks tantissimo succede in inglese e se voi avete degli interessi in campo educativo l'inglese veramente vi apre dei mondi straordinari quindi mettetevi lì e imparate anche magari guardando i TED Talks con i sottotitoli in italiano che vi aiutano ad associare il suono alla parola scritta c'è anche il commercio perché uno che vuole aprire un negozio aprire un negozio di articoli di casalinghi ma in una chiave educativa e innovativa o di giochi per bambini con spazio anche agli utensili da cucina un negozio di giochi che non sia il giocattolo stupido di plastica ma dove nel concetto di gioco ci sta anche quello che normalmente uno magari trova nel negozio casalinghi o dal ferramenta e che non si aspetta di trovare nel negozio di giochi per bambini quindi un negozio che sia una proposta al genitore di un modo di stare con i bambini quindi anche il commercio può avere a me sinceramente sono venuti in mente nell'immediato questi però io non vivo qui voi conoscendo i genitori qui conoscendo le famiglie conoscendo gli spazi eccetera sicuramente se ci pensate possono venirvi in mente altre cose ascoltando i bisogni delle persone le domande eccetera che può essere appunto un centro cioè lo stesso spazio così è uno spazio abbiamo visto ieri adeguato per fare attività di educazione alimentare con i bambini partite dall'idea che come vi ho detto 40 volte che il cibo c'entra sempre quindi qualsiasi cosa uno faccia può avere un collegamento col cibo e se questa cosa è una cosa vostra che parla di voi allora è interessante perché è autentica perché dentro ognuno di noi c'è qualcosa che magari vale la pena di passare come passaggio di testimone a un bambino quindi ecco adesso c'è già chi magari qui fa attività di cucina con i bambini però magari l'assistente sociale che gestisce c'è non so un gruppo di adolescenti irrequieti per scaricare un po' di tensione la gara del burro può funzionare e così via quindi vorrei stimolarvi adesso una riflessione che riprenderemo nel pomeriggio pensando a voi a quello che vi piace a quello che siete a quello che fate è qualcosa di cibo che ha a che fare con la vostra vita quindi non andare a cercare il laboratorio strano pensato da altri eccetera eccetera perché io ho pensato un laboratorio di pasta perché io avevo questa tata che faceva la pasta in casa e io amavo tantissimo stare con lei e quindi stare con lei quando lei faceva la pasta a me al mio cuore parla faccio questa cosa con i bambini perché è una cosa che piace a me e quindi voglio trasmettere loro una cosa che io amo non una cosa che è didatticamente interessante ma una cosa che ritengo sia didatticamente interessante ma che ha un pezzo di me quindi su questo non so se vi vengono delle altre idee e ce le possiamo le possiamo tirare fuori e condividere questo su possibili cose di lavoro che hanno a che vedere col cibo non lo so uno che fa il fotografo adesso si usano questi photo shooting si chiamano in cucina no? allora ci sono non so il negozio di abbigliamento che deve non so promuovere la nuova linea di abbigliamento per bambini perché non fotografare i bambini con i vestiti eccetera magari mentre cucinano quindi sono solo degli esempi banali per dire che questa attività è bella interessante al bambino piace gliela potete offrire facendo qualsiasi lavoro praticamente e va bene e questo è un discorso l'altro discorsetto un po' noioso che volevo fare che vi ho già fatto ma ci tengo davvero a ribadirlo perché vi voglio convincere fino in fondo no? è quello di un riassuntino di perché vale la pena cucinare con i bambini no? alcune cose le abbiamo già detto le abbiamo già dette le abbiamo viste anche nello slide show di prima c'è anche il discorso dell'autonomia è una parola un po' abusata in campo educativo però i bambini devono imparare a cavarsela da soli perché cresceranno e dovranno imparare a cavarsela da soli dare l'autonomia in cucina sono talmente tante le competenze pratiche logiche eccetera della cucina che davvero insegniamo loro a cavarsela in qualche modo in questo volevo magari provare a immaginare il momento in cui i bambini sono diventati ragazzi e quindi stanno magari a casa da soli cucinano delle cose così in qualche modo perché magari devono studiare fino a tardi perché magari devono invitare la ragazza allora io ho un nipote quindicenne che ogni tanto invita le amiche e cucina per loro ecco avete già capito no un ragazzo così oggi becca di brutto come si suol dire no altro che arrivare con la bella macchina quindi la cucina oggi non è riscopriamo la tradizione i piatti della nonna no la cucina oggi è cool ok e lo è veramente e lo è per i giovani e lo è per i ragazzi è tutto un nuovo modo di vedere la cucina oggi siamo negli anni dei celebrity chef siamo negli anni dei vari Jamie Oliver del come si chiama quel Simone Ruggiati dei i ragazzi cucinano quindi attenti ma scrollatevi di dosso il pregiudizio che potete avere voi stessi sulla cultura del cibo eccetera perché oggi è divertente cucinare è una roba da giovani quindi se pensate alla cucina proponetela in questa chiave una chiave giovane bella divertente eccetera per i ragazzi per i maschi così come per le ragazze quali sono e adesso l'ultima cosa di cui volevo parlarvi è un pochino questo del taglio un po' più grande no adolescenti preadolescenti quindi quali sono le cose che vogliamo un pochino prevenire quali sono i problemi degli adolescenti col cibo mentre nei bambini maschi e femmine non fa tanta differenza quando cominciamo a parlare di ragazzi a un certo punto c'è davvero un po' una separazione ora non voglio banalizzare generalizzare non è una regola assoluta però i ragazzi tendono a imboccare la deriva dei sapori forti cibi salati come dire cibi maschi tanta carne troppa alcolici ovviamente quelle sempre un mettere dentro e qua riprendiamo il discorso che facevamo ieri che se insegniamo ai nostri bambini ogni volta che piangono ogni volta che sono turbati li consoliamo mettendo in bocca qualcosa e dopo poi diventano le sigarette l'alcol eccetera e mettere in bocca per consolarsi mettere in bocca per placare l'ansia e così via quindi i cibi dei maschi sono cibi associati al coraggio alla forza cose così no? quindi i cibi più femminili sono quelli legati a immagini stereotipate di bellezza e di magrezza quindi senso di colpa quando si mangia quindi la ricerca della magrezza quindi le insalatine le scelte vegetariane eccetera eccetera ci stanno con l'essere ragazza i ragazzi devono fare le loro esperienze cioè secondo me alla fine niente di male se uno per un anno si ingozza di hamburger no? l'età è fatta anche di queste cose però ancora una volta è vero che più noi abbiamo dato ai bambini degli strumenti per conoscere davvero il cibo meno loro sono proprio vittime delle mode alimentari no? e quindi come vi dicevo mio figlio oggi adolescente non è affascinato da McDonald's no? l'abbiamo per anni lo so che non è carino dirlo in streaming ma per anni l'abbiamo soprannominato MerDonald e e resta nella sua mente un pochino quell'idea sì ok può essere carino andarci con gli amici se capita con gli amici ci si va però lo so subito che questa non è una roba buona la roba buona è alta no? la roba buona è sentirsi un figo perché inviti gli amici e gli fai i tacos col guacamole e gli amici tanto d'occhi la competenza in cucina ti fa sentire veramente ti dà come dire quel valore aggiunto che a una certa età uno vuole sentirsi addosso quindi quali sono nell'adolescenza delle cose carine che si possono fare con i ragazzi allora no prima piccola premessa sui ragazzi così come i ragazzi diventando adolescenti nascono un'altra volta nasce la loro identità di adulti diventano persone nuove così cambiano i loro gusti e quindi non dobbiamo restarci male se tutto quello che abbiamo costruito per un attimo sembra sconvolgersi perché nessuno di noi mangia esattamente come mangiavano i nostri genitori no? noi abbiamo ricevuto dei modelli familiari e poi abbiamo fatto scelte diverse ok e qui abbiamo rispetto per come mangiano i nostri genitori però arriva il momento che noi costruendo la nostra identità costruiamo anche un'identità alimentare quindi a quel punto i ragazzi vanno accompagnati con rispetto a costruirsi la propria identità alimentare che sarà diversa dalla nostra no? fa parte proprio del crescere e faranno anche magari delle scelte sbagliate ora un giochino se voi digitate con google bambini escono un sacco di cose carine se voi digitate con google la parola adolescenti escono un sacco di problemi di drammi quindi anche questo è un pregiudizio l'adolescenza è un'età bellissima in cui c'è proprio questa nuova nascita quindi il ragazzo adolescente esce di casa entra nel mondo e ci porta questo mondo nuovo è di nuovo per noi una risorsa un'occasione per scoprire cose nuove per scoprire nuove idee eccetera quindi il ragazzo adolescente è un vento di cambiamento che sperimenta con tutta la sua innocenza con tutta la sua fragilità con tutta la sua arroganza anche magari però porta novità e chiede novità a tavola quindi quando arriva mentre il bambino piccolo passa la fase della cosiddetta neofobia la paura del nuovo magari intorno ai quattro anni che non mangia più niente prima mangiava tutto adesso no ecco poi arriva l'età della neofilia dell'amore per le cose nuove dell'interesse per le cose nuove no il cibo etnico per esempio buttiamoci con i figli con i ragazzi nel cambiamento perché con i ragazzi non possiamo fare un laboratorio di non so di cibo messicano piuttosto che di cose così dura difficile anche per noi ma buttiamoci divertiamoci anche noi cioè consideriamo ogni età come un'occasione per noi di scoperte di cambiamento e adesso vi faccio qualche esempio di attività che si possono fare con i ragazzi allora la mia speranza è che i ragazzi abbiano pochi soldi in tasca questo non è sempre vero no però dovrebbe essere così insomma quindi laboratorio di cucina per piccole tasche le paste come quelle che abbiamo visto ieri piatti a base di patate di uova se insegniamo a cucinare a casa abbiamo dei ragazzi magari degli spazi può essere un centro sociale dove vogliamo insegnare i ragazzi a cucinare possono essere insegniamo a cucinare il pollo il maiale che costano meno del manzo il pesce e ortaggi vari cucinate in chiave ragazzo al forno per esempio senza bisogno di fare le fritture cose croccanti grandi pinsimoni con salsine particolari insomma cibo che costa poco stiamo dando una competenza utilissima per quando saranno adulti perché cucinare bene e spendere poco è una competenza che serve sempre nella vita tornando al discorso di un ragazzo che cucina per esempio cucinare per fare colpo vuoi invitare una ragazza o una ragazza che vuole invitare gli amici eccetera eccetera ci sono dei piatti che insomma colpiscono no? insegniamo a fare non so le lasagne piuttosto che dei piatti un po' ma anche le bruschette delle salsicce al forno degli antipasti eccetera eccetera proponiamo ai ragazzi di un gruppo di preparare delle cose per gli altri gli uni per gli altri eccetera o se siamo a casa per esempio dai ti aiuti impariamo a preparare quattro cose poi magari mamma e papà vanno fuori al cinema vi lasciamo fuori per una cenetta da soli no? proprio perché i ragazzi possono passare questa fase in neofilia insegniamo ai ragazzi dei piatti di cucina vegetariana dei piatti di cucina etnica per riuscire a preparare anche cose per gli altri detto ciò i ragazzi restano affezionati al cibo di casa quindi così come ognuno di noi ha un piatto che mangiava da bambino che è quello che gli americani chiamano comfort food no? il cibo che scalda e che consola il cuore quindi sperando magari che i ragazzi vadano anche magari qualche anno all'estero che vadano a studiare fuori o anche in viaggio insegniamoli a preparare non so i due o tre piatti che scaldano il cuore pensando magari a un momento in cui si sentiranno soli o si sentiranno sconfortati e allora quel sapore di casa ti scalderà il cuore e li aiuterà quindi i piatti forti di casa che li fanno sentire al sicuro insegniamoli a prepararli no? e poi magari un giorno loro li faranno per i loro figli naturalmente i ragazzi non mangiano sempre a tavola no? mangiano in giro e loro mangiano davanti alla tele o mangiano eccetera assecondiamo questo loro modo diverso di mangiare imparando a preparare non so il piccolo snack da mangiare il micro pinsimone da mangiare davanti alla tele o mentre si studia dei cibi energetici ma leggeri da mangiare per esempio quando uno non so deve preparare gli esami la maturità che studia tantissimo fino a tardi e ha bisogno di un po' di energia ma non del colpo di sonno e in questo modo li educhiamo alla qualità se devi sbocconcellare qualcosa allora meglio le olive delle patatine e se invece di aprire il barattolo delle olive non so hai due o tre olive diverse e metti tre colori delle olive magari quattro dadini non so di pecorino è un attimo preparare una ciotolina un po' più invitante e quando quella ciotolina lì è invitante è molto più invitante delle patatine e unticce cibo da trasportare quindi come farsi un buon panino non so vai a scuola eccetera la mattina il panino te lo fai tu no però se nel panino invece di mettere solo il salame metti impari ad abbinare le consistenze non so puoi mettere un salume ma puoi mettere non so la carota tagliata appunto col pela patate che vengono come dei fogli sottili ma che mantiene un po' di croccantezza e allora giocare con le esperienze tattili in bocca con le consistenze è uno dei modi cioè insegniamo la cucina anche con questi piccoli stratagemi per imparare a farsi dei panini davvero buoni diamo ai ragazzi la possibilità di fare qualcosa per noi perché non so un ragazzo che è arrivato a casa con un brutto voto magari si sente anche in colpa allora non dirgli stasera cucini tu che sembra la punizione per il brutto voto ma dirgli guarda stasera non so sono stanco da fare eccetera mi prepari qualcosa tu esperienze così danno ai ragazzi la possibilità che consola molto di farsi perdonare facendo qualcosa per noi e una cosa che sento molto le mamme italiane hanno ancora questa tendenza a essere un po' vittime sacrificali a fare fino in fondo per i figli eccetera eccetera dobbiamo anche dire ai figli aiutami guarda sono in ritardo metti sull'acqua fai qualcosa insegnare ai figli a fare qualcosa per noi a volerci bene con il gesto pratico non a volerci bene solo in teoria e la cucina preparare qualcosa da mangiare è un atto d'amore quindi insegniamo ai nostri ragazzi anche un modo per dimostrare l'affetto con un atto pratico che è quello di preparare qualcosa di buono certo potremmo anche ci vogliono bene anche se stendono la lavatrice però nel cibo c'è davvero più calore e più amore questo per dire che non finisce nell'infanzia ogni età ha la chiave giusta e quindi se noi osserviamo bene quell'età possiamo trovare per ogni età delle chiavi davvero carine ed efficaci siete d'accordo? no? sì? ok dicevo che il laboratorio di cucina proposto agli adolescenti probabilmente è quello più difficile sia proprio perché gli adolescenti sono un po' più resti a partecipare ai laboratori in generale certo e sia per riuscire appunto a coinvolgerli perché con i bambini piccoli se si riesce a coinvolgere la scuola o si riesce a coinvolgere i genitori a volte i genitori sia perché sono interessati sia perché magari possono tra virgolette liberarsi per un paio d'ore dei bambini bene o male i bambini più piccoli ci arrivano più facilmente a fare queste esperienze invece per gli adolescenti diventa veramente molto più difficile penso che però appunto dei titoli così siano accattivanti e possano appunto colpire l'interesse dei ragazzi però immaginando di mettere su un laboratorio del genere non so se poi davvero i ragazzi ci provano perché a quel punto non sono i genitori che devono convincerli o spingerli che è più una questione già di interesse personale di scelta volontaria del ragazzo che viene a partecipare quindi credo che sia una sfida allora quello che ho visto proporre un laboratorio di cucina in una scuola media si può fare? sì penso che una scuola su mille ti dice di sì oggi poi resto convinta che fra tre anni magari saranno dieci scuole non cinque e così via sarà una tendenza ci sono persone che professionalmente si occupano di ragazzi non so un centro di aggregazione giovanile piuttosto che così magari la cucina può essere una risorsa un'idea per fare delle cose interessanti allora mi è capitato qualche anno fa di fare un laboratorio in un centro sociale frequentato da bambini e ragazzi quindi età molto diverse eccetera tutti incasinati per dirsi bambini e ragazzi che andavano lì perché davvero non c'era un posto dove farli andare eccetera è stato interessantissimo fare laboratori lì perché per dire un laboratorio come quello che abbiamo visto ieri non si poteva fare perché quei bambini avevano e quei ragazzi avevano un'energia da spendere per cui abbiamo fatto un laboratorio di pasta che è stato noiosissimo e allora abbiamo deciso di fare una cosa molto più difficile per impegnarli fisicamente mentalmente di più e più e io lo vedo questo lo vedo sempre tra l'altro che quando un bambino un ragazzo non ci sta dentro bisogna alzare il tiro non abbassarlo e funziona tantissimo quindi se c'è il bambino in un gruppo che disturba che si distrae eccetera eccetera funziona sempre mi fai da assistente mi fai d'aiuto eccetera cioè puntare alto non puntare basso e quello funziona sempre ti faccio sentire importante ti dà una responsabilità più grossa ti dà un carico più pesante e funziona quindi con i ragazzi puntare alto come dicevamo per esempio fai qualcosa per i tuoi genitori ci stanno dentro certo non è facile trovare il contesto giusto non si può fare l'animazione per la festa di compleanno però è vero che non possiamo farlo come adulti perché giustamente a quell'età loro fra noi l'adolescente con l'adulto mette un muro però può essere fatto da ragazzi più grandi allora a me piacerebbe tantissimo per esempio in una scuola media fare un progetto dove con i ragazzi terza media si fa come oggi un laboratorio di pasta e poi sono loro che devono insegnare a quelli di prima per esempio e allora tra ragazzi di età un po' diverse questo passaggio di competenze viene vissuto molto bene il grande si sente grande si sente responsabilizzato eccetera eccetera e quando hanno questo tipo di responsabilità sono davvero carini con i più piccoli e sono davvero collaborativi cioè dare sia a chi impara sia a chi insegna una bella esperienza di relazione è vero quello che dici tu che è difficile farlo però io resto dell'idea che già il fatto che ci stiamo pensando vuol dire che prima o poi ci arriviamo quindi bisogna crederci tanto e insistere e ricordarsi che non siamo matti a insistere perché qualsiasi cosa nuova all'inizio viene presa come bizzarra no? quindi tornando a prima il motivo per cui uno deve non so fare delle belle foto delle proprie attività pubblicare libri eccetera eccetera serve a convincere gli altri che si può fare no? e poi prima o poi ci si fa altre riflessioni sui ragazzi voi avete esperienze con i ragazzi di adolescenti è presto sono ancora big no la riuscita a immaginare delle attività così con i ragazzi perché poi adesso io non so qua ma per esempio a Milano o dintorno dove vivo io ci sono 10.000 proposte cose per i bambini e poi appena uno diventa ragazzo non c'è più un tubo non c'è niente no? e in fondo un ragazzo delle scuole medie le medie sono questo vago limbo dove le cose da ragazzi grandi ancora non si possono fare però le cose da bambino non vanno più bene e quindi sono tre anni in cui non si capisce dove portare i ragazzi a fare qualcosa di interessante e secondo me la cucina può essere una cosa interessante anche nei centri estivi ne varie ecco appunto bisogna trovare la chiave che permette al ragazzo di non sentirsi trattato da bambino ecco quello sicuramente quindi l'ultima cosa velocemente vi volevo fare degli esempi di piccole cose competenze pratiche che si possono fare con i ragazzi e i ragazzi per esempio volendo fare un'attività tutte le preparazioni tutte le attività che comportano pulire le verdure per esempio cioè usare il coltello capire cosa si tiene cosa si scarta non so se ve lo racconto sapete chi è Jamie Oliver no? questo cuoco chef grande innovatore un personaggio all'apparenza un po' pasticcione un po' un po' nervoso però lui ama tantissimo i bambini in educazione alimentare ed è portatore di grandi rivoluzioni tanto che anche grazie a lui è recentemente cambiata una parte della legislazione delle scuole britanniche e non so se dall'anno prossimo o dall'anno dopo la cucina diventerà un'attività didattica obbligatoria in tutte le scuole inglesi dai 7 ai 14 anni tutti i ragazzi inglesi faranno cucina per 7 anni come materia di scuola ecco questo per dire che poi se uno ci crede prima o poi ci si arriva lui ha fatto una serie di documentari negli Stati Uniti e la prima puntata è partita dalla località negli Stati Uniti dove ci sono i maggiori problemi di salute di disturbi connessi all'alimentazione no entra c'è il filmato lo trovate su youtube c'è il filmato e lui che entra in una classe elementare con un cesto di frutta e verdura mista c'era un po' di tutto no tira su un ramo di pomodori no il presidente i pomodori ramati il rametto con 5-6 pomodori e dice ai bambini che cos'è questo ora noi pensiamo i nostri bambini tutti riconoscono i pomodori no lì il silenzio nessuno lo sapeva no lui stesso resta stupito perché dice crebbi il pomodoro nessuno lo sa allora lui fa avete presente qualcuno dice patate qualcuno dice avete presente il ketchup è un bambino ah è ketchup allora ce lo potevi dire no ecco i nostri bambini non sono ancora a questo punto però dopo aver visto questo filmato e ovviamente ho detto c'è che faccio la prova no porto le verdure in laboratorio non provo col pomodoro perché poi è ovvio anche che il pomodoro è proprio roba nostra però ho fatto lo stesso esperimento con il sedano e nessuno sapeva cosa fosse cioè magari tagliato nel piatto lo conoscono però che aspetto ha il sedano non lo sanno un finocchio intero quindi non stiamo parlando dell'oggetto un finocchio intero non lo sapevano il peperone metà lo riconoscevano l'altra metà non lo sapevano la stessa cosa con la frutta se fate vedere a una classe di bambini un kiwi saranno in quattro a dirvi che è un kiwi la banana ovviamente la conoscono tutti quindi appena la frutta non è quattro cinque cose che si vedono sempre già non lo sanno e mostrando l'oggetto intero perché per esempio alcuni esperimenti fatti nelle scuole materne si pensa che un modo una scorciatoia per fare educazione alimentare sia far vedere le foto degli alimenti mentre si è scoperto che allora facciamo vedere foto di alimenti vari e c'è la foto di un uovo e l'insegnante fa vedere la fotografia di un uovo e chiede che cos'è e molti bambini non lo sanno poi e viene il dubbio possibile non sanno cos'è l'uovo mostra un uovo vero e i bambini lo sanno quindi è semplicemente un problema che un'immagine piatta bidimensionale non è un uovo è una foto non è un uovo però detto ciò ci sono tantissime cose che i bambini e i ragazzi non conoscono quindi farlo è utile una cosa a insegnare ai ragazzi sono le norme di sicurezza quindi igiene temperature eccetera e come comportarsi in caso di incidente perché noi ragazzi prima o poi dobbiamo lasciarli a casa da soli quindi ti scotti ti non so sposti la padella con l'olio e ti fa la fiammata non so se vi è mai successo insomma insegnare che in cucina ci si fa male che se ci si fa male ci sono delle cose da fare tipo se ti sei scottato ti metti sotto l'acqua fredda non metti una cosa calda sopra quindi l'ABC della sicurezza e come comportarsi se ti fai male e sei solo in casa qual è un numero di emergenza che devi chiamare cioè se ti sei fatto male grava l'improvviso non devi chiamare la mamma ok devi prima chiamare un medico l'aiuto l'assistenza poi la mamma è la seconda telefonata quindi quelle norme di autonomia che i bambini i ragazzi devono avere dobbiamo insegnare loro usare gli utensili manuali e i ragazzi usare gli utensili elettrici insegnare ad apparecchiare la tavola quindi sia un'apparecchiatura informale sia un'apparecchiatura invece formale perché perché un domani si troveranno magari in un pranzo di lavoro no e se non sai stare a tavola decentemente non sai quale posata usare in certi contesti di lavoro sei tagliato fuori no quindi l'ABC dell'apparecchiatura del galateo eccetera sono competenze sociali e il ragazzo che uscirà nel mondo deve saperlo deve capire che in certi contesti non puoi mangiare coi gomiti sul tavolo non puoi non pulire la bocca prima di bere perché veramente verrai etichettato ed è importante che uno possa dimostrare emergere per quello che è non per come mangia quindi bisogna sapere quali sono le regole sociali proprio per poter essere visti per quello che si è le cotture di base cosa vuol dire lessare cosa vuol dire friggere cosa vuol dire cuocere al forno eccetera eccetera come valutare i pesi che cosa vuol dire due etti e cosa vuol dire sei cioè se devi andare a comprarti da mangiare devi avere una vaga idea di cosa sono i pesi come fare la spesa con un budget fisso ok a un ragazzo si può dire prepari da mangiare tu ma prepari tu fai la spesa hai 15 euro a disposizione quindi impariamo il senso del denaro che cosa si compra con 15 euro no il cibo non è una cosa illimitata che apro il frigo e apparirà qualsiasi cosa mi venga in mente e se devo cavarmela devo preparare da mangiare devo sapere come farmi durare i soldi e last but not least leggere le etichette mangia quello che vuoi ma sii consapevole di quello che mangi ok devi sapere cosa vogliono dire perché nella lista degli ingredienti ci sono i numeri e i codici ovvio uno non deve imparare le 724 per dire che cos'è però sapere che nella lista degli ingredienti gli ingredienti sono elencati non in ordine alfabetico a caso ma in base alla quantità quindi una marmellata dove si legge zucchero frutta e l'altra dove si legge frutta zucchero è diversa perché prima ci sono le cose di cui ce n'è di più quindi queste competenze di base per capire quello che uno mette in bocca queste sono tutte attività che si possono fare cioè che un ragazzo dovrebbe a un certo punto piano piano acquisire e perché lo acquisisca il ragazzo si può anche cominciare prima da bambini non ne potete più sono preoccupatissima che vi stufiate allora l'ultimissima tanto per proprio fare da un estremo all'altro cosa da dove partiamo cosa può fare un bambino prima dei due anni quindi per chi si occupa proprio dei cucciolini si comincia a casa nel seggiolone o al nido nel seggiolone eccetera prendendo in mano quello che c'è che può essere per esempio avete presente le cipolle quando hanno tante pelli tutte quelle pelli croccanti che vengono via ecco cominciare a pulire una cipolla cominciare a pulire l'aglio se prepariamo l'insalata possiamo farla con un bambino piccolissimo le foglie per esempio una lattuga per quanto la spezzo con le mani si può mangiare va bene sbucciare i mandarini magari il bambino non riesce a fare la prima incisione ma poi possiamo farle insieme poi è bello vedere come si divide mettere il sale è ovvio che non metteremo al bambino la ciotolona col sale mettiamo la giusta quantità di sale nella mano e poi loro prenderanno dalla nostra mano così come se facciamo usare l'uovo non gli facciamo magari rompere l'uovo ma mettiamo l'uovo già rotto in una tazzina in modo che lui possa versare dalla tazzina e mettere come abbiamo detto prima pulire i fagioli pulire i piselli e così via tutti i lavori di travaso quelli sono bellissimi interessantissimi mescolare gli ingredienti con le mani o con un cucchiaio quindi quando si comincia a cucinare non è mica detto che con i bambini bisogna fare una ricetta dall'inizio alla fine uno può venire e fare una parte e andare se non ha voglia facciamo l'insalata tu mi sciacqui le foglie nel lavandino e poi io faccio il resto quindi anche con pochi minuti a disposizione un pezzettino si può fare ovviamente i lavori di impasto quando si fanno lavori di impasto è sempre meglio cominciare dagli impasti salati la prima ricetta con i bambini non è quella dei biscotti perché sono impasti collosi e sono impasti difficili per dire la pasta frolla ha tanto burro se uno la scalda troppo con le mani poi finisce per dover mettere una valanga di farina e i biscotti vengono delle pietre quindi una preparazione come quella di ieri è ideale per cominciare quindi appunto la pasta le pizze le focacce eccetera eccetera e così anche riguardo ai genitori si scardina quell'idea bimbetti dolcetti ma si comincia a fare cucina salata che dal punto di vista alimentare è meglio appena crescono un po' per esempio formare le palline con le mani quindi polpette che non sono solo polpette di carne possono essere di pesce possono essere di legumi i famosi falafel non so se li avete mai assaggiati usare le formine allora noi facciamo soprattutto in periodo di Natale ci richiedono i laboratori di biscotti di Natale quindi facciamo sia quelli con le formine sia quelli senza e da quando abbiamo cominciato a fare quelli senza stiamo cercando di abolire totalmente le formine perché mettiamo lì la pasta frolla i bambini con le formine fanno l'alberello la stellina babababà cavoli ci siamo dimenticati le formine come facciamo voi non avete idea la meraviglia di cose che fa con la pasta frolla quando non c'è la formina cioè non c'è come togliere cose che i bambini fanno delle cose meravigliose questo magari vi dà uno spunto noi facciamo una pasta frolla facciamo due impasti e poi una parte la impastiamo col cacao per cui abbiamo una pasta frolla di due colori basta, non diamo altro e diamo solo la regola che bisogna contenere lo spessore perché se la fanno troppo alta non cuocerà bene dentro abbiamo visto delle cose meravigliose grazie al fatto di non avere le formine serve molto magari fare qualche cosa e metterla lì proprio per dare un esempio di partenza per cui non so mettere i due bastoncini di due colori diversi provare a fare la spirale eccetera magari fare una forma e usare delle palline dell'altro colore come decorazione cioè basta mettere lì quattro cose e poi partono con la fantasia draghi cani cose a non finire e vi assicuro che il confronto con la stellina e l'alberello alla fine è pazzesco perché veramente fanno delle cose meravigliose ho finito grazie a tutti